L'Ido centro ormai è al buio da giorni, il comitato di quartiere lancia l'allarme. Sono diversi giorni che siamo completamente al buio, abbiamo segnalato più volte ad Areti questa difficoltà, loro sono anche intervenuti ma il problema permane e tutto questo è molto grave perché mina fortemente la sicurezza per i cittadini, per il quartiere, questo perché vengono agevolati fortemente i fenomeni di microcriminalità, lo spaccio di sostanze stupefacenti, il consumo delle stesse all'interno del Parco Paolo Orlando che è particolarmente buio e coperto da alberi e fronde. Non riusciamo a farci una ragione, quindi ogni giorno continuiamo a muoverci attraverso segnalazioni scritte e telefoniche nei confronti dell'azienda che distribuisce l'energia e purtroppo a parte avere questi numeri di protocollo, di solleciti e continuiamo a sollecitare e sollecitare, riusciamo a tenere null, poco e niente e non si riesce a comprendere il motivo perché la zona è già oggetto di tante e tante criticità, quelle che continuiamo a segnalare ogni giorno e di cui parliamo continuamente e il problema è che così al buio tutte queste problematiche vanno ad acquirsi. La situazione si è fatta così preoccupante che diversi commercianti hanno iniziato a tenere le luci delle insegne accese anche di notte, cercando così di dare una mano a chi vive in zona. Se non fosse per noi chi scenderebbe dalla stazione risalirebbe sul treno e tornerebbe da dove trova perché è buio, completamente buio. Si parla tanto di green, hanno messo le luci in led ovunque, stazione è lito centro, ci sono i lumini, quelli che vediamo purtroppo nei cimiteri che non servono a nulla. Quindi secondo me non è un problema delle piante, dei pini che coprono la luce, è proprio un'illuminazione, guarda io sto qui dal 70, queste c'erano e queste sono rimaste, ma le potresti anche lasciare, sai siamo in centro storico quindi è giusto lasciarle, però quantomeno cambiare la lampadina e mettere quella led che fa luce. Dal decimo municipio arriva la conferma sul piano tecnico che porterà all'installazione di 48 telecamere su tutto il territorio. I comitati di quartiere di Ostia temono che la videosorveglianza escluda anche stavolta l'idocentro, dove bisogna risalire all'epoca Veltroni per ricordare quando venne installata la torretta SOS Sicurezza al centro dei giardini. Doveva essere un deterrente contro la microcriminalità, ma nessuna amministrazione passata e presente è mai riuscita a farla funzionare e il destino di questa piazza così centrale sembra essere ancora una volta quello di punto di raccordo di degrado spaccio e teppisti.